Questo video riguarda i migliori tre forno da incasso per pizza. Il vincitore della qualità è il Candy FCC 604 Nav. La collezione classic di Candy raffigura la vera bellezza senza tempo. Una moderna gamma di forni alla moda che coniuga tradizione e stile all'avanguardia, linee classiche e caratteristiche innovative. Con un design classico reinterpretato in chiave contemporanea, questa collezione crea un complemento tra le cucine tradizionali e quelle moderne. Semplifica la tua giornata con la gamma che unisce stile classico e tecnologie innovative. Design classico ed elegante reinterpretato in chiave contemporanea con linee classiche, caratteristiche innovative e materiali resistenti. Noi tutti sappiamo quanto sia importante ridurre il consumo energetico. La maggior parte dei nostri forni è in classe a più. I forni della collezione classic possiedono un'interfaccia intuitiva che semplifica l'utilizzo dell'elettrodomestico stesso. L'orologio analogico, le manopole dorate e le inizioni di acqua. Innovative funzioni garantiscono la ottima semplicità di utilizzo. Crea dei piatti davvero chef grazie alle tante funzioni speciali disponibili come, ad esempio, Cook Light, la funzione pizza e quella multifunzione. Il forno dal design rustico Candy è stato progettato con materiali robusti e duraturi per assicurarti performance di alto livello. La maggior parte dei nostri forni è in classe a più. I forni della collezione classic possiedono un'interfaccia intuitiva che semplifica l'utilizzo dell'elettrodomestico stesso. Il vincitore del premio è il Candy OCTA02. Linee semplici e design essenziale caratterizzano il forno da incasso in acciaio Inox Candy, progettato per adattarsi perfettamente allo stile della tua cucina. Dai un tocco in più alle tue ricette grazie alla funzione ventilata, studiata per distribuire in maniera omogenea il calore all'interno del tuo forno elettrico ventilato Candy. Ottieni di più dai tuoi piatti grazie al metodo di cottura grill del forno da incasso ventilato Candy, ottima per dorare, cuocere o dare un tocco croccante a verdure, carni, formaggi e molto altro. Crea dei piatti davvero chef grazie alle tante funzioni speciali di cui dispone il forno elettrico da incasso Candy. Pulire a fondo il tuo forno elettrico ventilato non è mai stato così semplice. Grazie al vetro removibile potrai pulire la porta da residui e incrustazioni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.